Il ruolo di Maria per i cristiani è un ruolo indispensabile. San Francesco, di fronte alla Beata Vergine Maria, si metteva sempre in un atteggiamento di gratitudine e quindi di riconoscenza, non solo per il suo sì, ma anche per il ruolo che ha acquistato nell'ambito della Chiesa. E' il ruolo di essere maestra e di essere soprattutto madre, perché ci ha dato l'autore della vita. San Francesco, per quanto riguarda le relazioni che ha avuto sempre dall'inizio della sua vocazione, quindi della sua risposta alla vocazione evangelica, ha dimostrato sempre un amore indicibile, un amore che ha legato la sua vita e la vita di tutto l'ordine alla vita di Maria Santissima. Per cui l'evangelizzazione che porterà avanti non è altro che quella testimonianza viva e autentica e credibile di questo legame indissolubile che si crea tra la Vergine Maria e Francesco di Assisi. E il rapporto tra appunto i fedeli, la Vergine Maria, i Molfettesi, cosa significa Maria per i Molfettesi? Per i Molfettesi la Vergine Maria è stato sempre uno dei pilastri fondamentali della relazione proprio con questo santuario. Il santuario è nato come il santuario della Madonna della Tenerezza. La Madonna della Tenerezza che è la madre in cui vediamo come il suo figlio si abbandona totalmente tra le braccia e quindi tra le vita della sua mamma e così doveva essere ed è dimostrata attraverso questa partecipazione massiccia della vita di questo popolo, di questa città, a quello che è la celebrazione dell'Immacolata Concezione di Maria. Pensiamo a una partecipazione tale che sconfina pure il rapporto tra il popolo e Cristo, perché quando il credente viene qui non si rivolge subito a Cristo, ma si rivolge subito alla Beata Vergine Maria, proprio con quello slancio e quella fiducia che la Vergine Maria l'accoglierà perché chi viene accolto viene accolto unicamente per amore.